ciao la domanda che mi viene rivolta più spesso dai miei clienti quando mi portano qualche computer è come posso fare la pulizia e la manutenzione dal computer e quindi in sostanza come posso liberarlo da tutta quella catasta di file che si vanno ad accumulare fisiologicamente con l'utilizzo della macchina nel tempo senza però danneggiare il computer perché molti di loro utilizzano ccleaner e io non ho niente contro ccleaner ma è un programma che era nato per fare solo ed esclusivamente la pulizia come dice il nome stesso e poi pian pianino gli sviluppatori della piriform hanno aggiunto tante di quelle funzioni che hanno reso un po poco intuitivo l'utilizzo per l'utente medio che talvolta fa anche dei danni utilizzando ccleaner quello che ti propongo io invece è un programma molto più agevole che si chiama bleach bit che oltre a fare una pulizia davvero molto molto più profonda del computer una volta ben configurato fa un eccellente lavoro senza nessun pericolo per la macchina andiamo a vedere come scaricarlo e come installarlo andiamo ad aprire il nostro browser andiamo su google e digitiamo bleach bit quello che ci interessa è il primo risultato che vediamo adesso scegliamo la versione più adatta al nostro sistema operativo quasi sicuramente starai utilizzando windows quindi scegli windows a meno che tu non sia un utente linux bleach bit funziona in maniera identica sui due sistemi puoi chiudere questa finestrella e a questo punto ti consiglio di scaricare il bleach bit installer la seconda versione la portable è una versione che puoi se vuoi scaricare e installare su una chiavetta se vuoi provare a pulire i computer per esempio dei tuoi amici mi raccomando non cliccare niente questa è una schermata pubblicitaria il tuo download come vedi partirà lo stesso e lo troverai in basso a sinistra sulla tua schermata se usi per esempio google chrome o se usi microsoft edge lo troverai in alto a destra una volta scaricato il programma andiamo ad aprirlo e possiamo chiudere il browser seguiamo a questo punto l'installazione guidata quindi scegliamo la lingua andiamo avanti accettiamo le condizioni di licenza e andiamo avanti su questa schermata possiamo scegliere se installare bleach bit per tutti gli utenti del computer oppure se installarlo solo sulla nostra utenza ti consiglio di scegliere la seconda opzione e andiamo avanti lasciamo il percorso di installazione così com'è e clicchiamo ancora su avanti e lasciamo anche queste impostazioni così come sono e clicchiamo finalmente su installa attendiamo il termine dell'installazione clicchiamo su avanti e quindi su chiudi in questo modo bleach bit si avvierà automaticamente accettiamo la modifica dell'app al dispositivo ed ecco la nostra schermata di bleach bit le opzioni che ho scelto sono quelle secondo me migliori per la pulizia di una macchina bleach bit ci metterà un po più di tempo a completarle tutte quante però sarai sicuro di aver fatto veramente la pulizia più profonda possibile del tuo computer andiamo a vederla sia per google chrome che per internet explorer devi deselezionare password e preferenze del sito sulla voce che riguarda la scansione approfondita devi selezionare la rimozione dei file di backup infine su windows explorer devi deselezionare l'elenco dei documenti recenti che occupa molto poco spazio ma rende molto agevole la navigazione quindi non cancellarlo e poi la voce che dice shell bag a questo punto puoi cliccare su anteprima e ti verrà mostrato quanto spazio bleach bit riesce a recuperare sul tuo computer fatto questo clicca pure sul pulsante pulisci e successivamente su elimina attendi pazientemente che il programma termini la sua esecuzione non preoccuparti se vedrai lampeggiare lo schermo o comparire delle finestrelle nere è del tutto normale se per caso vuoi interrompere la pulizia per qualche motivo puoi utilizzare il pulsante interrompi in alto a sinistra in alto nella schermata puoi vedere quanto tempo manca al termine dell'operazione perfetto non preoccuparti se vedrai comparire degli errori questo è del tutto normale e significa solo che bleach bit non è riuscito a cancellare dei file che in quel momento erano aperti dal sistema operativo sul tuo computer al termine dell'operazione puoi chiudere bleach bit e goderti il tuo computer pulito